Un finanziamento per salvare il porto di Termoli dal degrado in cui vige attualmente. Dopo gli annunci di un mese fa da parte del presidente della regione Donato Toma, ieri si è tenuto in prefettura a Campobasso un incontro al quale ha partecipato anche l'amministratore delegato dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo d'Impresa, Domenico Arcuri. Con loro e diversi sindaci c'era anche un rappresentante della presidenza del Consiglio dei Ministri. Si è parlato della possibilità di stipulare un contratto istituzionale di sviluppo, ossia una forma di finanziamento che può essere utilizzato per i progetti di sviluppo territoriale purché siano ritenuti strategici. In quest'ottica il sindaco della città adriatica, Angelo Sbrocca, ha proposto l'ammodernamento attraverso nuove infrastrutture del porto di Termoli, che è un bacino regionale quindi di ampio interesse per l'economia locale. Per quanto riguarda l'ammodernamento del bacino portuale, secondo quelle che sono le previsioni della regione, si punterebbe su opere strategiche di rilancio dell'economia della città e non solo. Si punta su quelle strutture portuali che possano far crescere l'utenza e il passaggio di imbarcazioni, ma anche passeggeri e merci, ma anche il comparto della pesca, uno dei principali indotti della città insieme al settore del diportismo e quello dei trasporti. Il primo cittadino impegnato per la presentazione di un progetto dettagliato che una volta ultimato ottenuto il parere favorevole della regione sarà inviato a Invitalia per il placet definitivo. Quel che è certo che allo stato attuale il porto di Termoli ha anche bisogno di opere di primario intervento, una banchina inutilizzabile, ci sono buche pericolose per pedoni e mezzi di passaggio ed alcune aree sono interamente da riqualificare. Non un buon colpo d'occhio per un bacino che ogni anno in estate ospita migliaia di turisti che si imbarcano per le isole tremiti e dall'estate scorsa, anche per la Croazia.